Vedi il regno? Sì. Ok, ti devo avvicinare, c'è bisogno? Aspetta che guardo. Ah, d'accordo, starei distante. Va bene, ci sono nell'inquadratura? Mi si vede? Sì. Mi si vede tutto? D'accordo. Tutto no. E tutto, vediamo, fai la figura intera. Poi metti qui, in modo che tu si veda tutto e si vede... Tutto sì. Si vede tutto. Sono bello. Sono bellissimo. Ma che possiamo fare? Vediamo i prezzi che c'è sotto. I prezzi sono di 170. Ma mi prendi in giro? Mi prendi in giro? No, non ti prendo in giro. Quindi non guardiamo nemmeno i prezzi. Va bene. Visto. Visto. E adesso proseguiamo. Tanto per ora non possiamo comprare...